dal pensiero di san pio del 18 di gennaio prega per i perfidi prega per i fervorosi prega per il somo pontifici prega per tutti i bisogni spirituali e temporali della santa chiesa nostra tenerissima madre questo pensiero è stato tratto dal libro padre pio un pensiero per ogni giorno dell'anno edito da shalom grazie